Ennesimo episodio di furto presso il negozio di abbigliamento Zara di Lecce. Ieri sera intorno alle 19 una volante della polizia è intervenuta presso la boutique di Via Trinchiese dove era stato segnalato un furto. Il personale addetto all'assistenza clienti aveva poco prima fermato una signora dopo che era entrato in funzione dall'arme antitaccheggio. I poliziotti hanno quindi identificato la donna che nel frattempo stava tentando di scappare con la borsa piena di capi d'abbigliamento ancora muniti di placchi antitaccheggio e di cartellino con il prezzo. Si tratta di Daniela Leucci Rosafio, 42 anni, brindisina, già nota per simili episodi di furto. Per la ladra recidiva sono quindi scattati gli arresti domiciliari.